Quarta edizione dell'architettura religiosa nella città delle Grotte, iniziativa del Comitato Feste Patronali di Castellana Grotte e Vivi Castellana Grotte. Anche per questa edizione Cicerone Marina Proietto. Per questa festa d'aprile visita a San Francesco di Paola, meglio conosciuta come San Giuseppe. L'evento ha attirato visitatori da fuori Castellana. Vengo da Bitonto insieme certamente a mia moglie e siamo venuti a posto proprio per questa visita di questa città di cui sapevamo solo l'esistenza delle Grotte, che abbiamo visto tra l'altro solo una parte, non tutto il percorso e adesso ci aspettiamo che la guida ci fornisca ulteriori notizie. Sicuro è stato un bel evento, è stato interessante il giro qui nella chiesa, è stata brava la guida, una bella immersione nell'arte qui della Puglia, di Castellana.